E' un po' di stessi, mi eri da bene. Ma, mi senti? Mi fa bene uscire un po' da quella casa? Qualsiasi cosa qui mi parla di lui. Sento il suo respiro quando mi giro nel letto. Lui ti sta chiamando. Devi dirmi che sta succedendo. Tu credi che sia possibile? Che la morte non ci cancelli completamente? Ho bisogno di aiuto! Ma non ci lasceremo mai. Tu credi che si possa tornare?